Novità, o meglio una conferma e una novità nell'ambito del Milan, la squadra rossonera-pereciolese che ha vinto da poco tempo lo Scudetto. Ebbene, Antonio Mirante va a rinnovare con la squadra in questione, i rossoneri-pereciolese, il terzo portiere, si conferma dunque, anche esso proprio il portiere, quindi dice ok, io confermo il mio impegno. E una novità che vi do importante è l'addio alla Roma di Alessandro Florenzi per 2,7 milioni di euro e l'arrivo di Florenzi al Milan. Il Milan compra, o meglio, il Milan ottiene, riceve proprio Alessandro Florenzi. Una scelta importante, una scelta delicata a Zabba Dilo e Florenzi dunque passa la palla e passa dalla Roma. Una squadra che gli ha dato tanto, no? Se il suo Florenzi avrebbe scritto, siete stati da mia casa, vi auguro tutto il meglio, arriva a proda proprio al Milan. Quindi diciamo che Florenzi sarà un nuovo giocatore dei rossoneri per eccellenza. Come se la caverà? E questa è la domanda che molti si stanno facendo in questo tipo di tempo. Sono convinto che se la caverà piuttosto bene, sono convinto che non avrà problemi di sorta, sono convinto che farà del suo meglio e soprattutto garantirà un gioco piacevole, armato ed efficace. Detto questo, grazie a tutti utenti di Youtube, dal vostro reandolo, l'anato italiano, iscrivetevi al commento.